Non ci sarà domani il ventilato incontro tra il governo e i vertici di Arcelor Mittal, la multinazionale che vuole lasciare gli stabilimenti dell'ex Ilva. A Palazzo Chigi si lavora per cercare proposte utili a sbloccare la situazione, dai ricorsi legali al commissariamento con l'individuazione di altri investitori, fino alla nazionalizzazione. Il presidente israeliano Rivlin con una lettera ha invitato Liliana Segre a Gerusalemme esprimendo orrore e disgusto per le minacce e gli insulti ricevuti dalla senatrice sopravvissuta ad Auschwitz. La forza e il coraggio di Liliana Segre, scrive Rivlin, sono un modello per noi in Israele e per le comunità ebraiche di tutto il mondo. 37 milioni di spagnoli oggi al voto per la quarta volta in quattro anni e a soli sei mesi dall'ultima consultazione che nello scorso aprile non ha reso possibile la formazione di un governo. Il premier ad interim Sanchez invita tutti alla partecipazione per rafforzare la democrazia, ma i sondaggi che danno il centrodestra in crescita disegnano una situazione ancora bloccata. Il presidente della Bolivia Morales ha annunciato nuove elezioni presidenziali dopo il contestato voto del 20 di ottobre nel paese La Tensione e Alle Stelle. Nelle ultime ore proprio Morales aveva invitato i suoi sostenitori a scendere in piazza mentre alcune unità della polizia avevano aderito alle proteste e gli oppositori avevano incendiato le abitazioni di due governatori. Non è in pericolo di vita l'uomo di 79 anni che a Milano è stato accoltellato alla gola da un ergastolano in permesso premio che nel parcheggio di un ospedale voleva rapinarlo. L'aggressore che 40 anni fa aveva ucciso tre carabinieri è stato fermato dalla polizia. Dopo la sofferta vittoria in rimonta di ieri dell'Inter e sulle Verona oggi la Juventus che ospita il Milan allo Stadium è costretta a vincere per mantenere la vetta della classifica mentre continua la crisi del Napoli. Al San Paolo gli azzurri imbrigliati dal Geno e fischiati dai tifosi dopo il quinto pareggio consecutivo la Roma di scena a Parma, la Lazio ospita il Lecce. Buongiorno e buona domenica a tutti voi. Dunque è stato il caso al centro del dibattito politico e non solo di questa settimana. Prosegue lo stallo nella trattativa tra Arcelor Mittal che come sapete ha ormai annunciato e ha deciso il suo disimpegno dalla ex ILVA e il Governo che è in cerca di soluzioni ma anche di alternative. Al momento il vertice di domani tra Governo e la multinazionale franco-indiana non è stato confermato da Palazzo Chigi quindi sul tavolo resta la richiesta di Arcelor Mittal dello scudo penale una proposta questa e su questo punto Conte si mostra possibilista ma anche la richiesta del taglio di 5.000 posti di lavoro e su questo punto il Presidente del Consiglio non è assolutamente d'accordo. Il punto. L'incontro di domani tra il Governo e i vertici di Arcelor Mittal l'azienda che ha annunciato il suo disimpegno dall'ex ILVA non compare nell'agenda di Palazzo Chigi incognita che si aggiunge a quelle che gravano sul futuro dell'acciaieria e che pesano sul destino della maggioranza dove in queste ore si lavora la ricerca di una difficile soluzione. Da una parte mettendo sul piatto nuovi argomenti per riaprire la trattativa ma dietro le quinte ipotizzando anche piani alternativi che vanno da ricorso legale alla ricerca di altri possibili investitori fino alla nazionalizzazione. Per quanto riguarda la trattativa la piattaforma circolata dopo la visita di Conte a Taranto prevederebbe in cambio del ritiro della cessazione del contratto da parte dell'azienda un innalzamento della cassa integrazione si parla di 2.500 esuberi la revisione dei canoni di affitto e il reintegro dello scudo passaggi che non trovano conferme ufficiali anche perché Mittal racconta chi ha partecipato al tavolo della scorsa settimana a Palazzo Chigi non avrebbe lasciato grandi margini di manovra senza riduzione drastica della produzione 5.000 esuberi nessuna intenzione di tornare sui propri passi e sui licenziamenti nonostante le notizie trapelate non ci sarebbe nessuna controproposta dell'esecutivo resta poi apertissima la questione scudo penale indigeribile per i 5 Stelle come norma ad personam con i parlamentari pugliesi sul piede di guerra che potrebbero incontrare nelle prossime ore il premier di sicuro vedranno domani il ministro dello sviluppo economico Patuanelli che ha anticipato in un posto una possibile mediazione ossia una norma che esplicita il principio già presente nell'articolo 51 del codice penale cioè la non punibilità nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità togliendo al passaggio il sapore di una cortesia all'azienda ma si lavora anche a piani alternativi che non escludono le vie legali si sta studiando un possibile ricorso dei commissari che potrebbero impugnare il recesso inchiodando Mittal alle proprie responsabilità in alternativa ci sarebbe il commissariamento in attesa che si facciano avanti altre offerte sullo sfondo la difficile strada della nazionalizzazione ma anche qui secondo fonti di governo proprio l'Europa che aveva caldeggiato l'acquisizione dell'exilva da parte di Mittal potrebbe oggi guardare la vicenda con altri occhi sul fronte dei partiti in primo piano c'è il centrodestra in particolare il ruolo di Mara Carfagna politico che secondo molti potrebbe fare la differenza che il clima fosse da separati in casa lo si conosceva la tentazione di uno strappo pure ma l'uscita di ieri di Mara Carfagna quella suggestione di un Forza Italia Viva la convergenza con il progetto renziano di chi non tollera la subalternità sovranista così in questo modo e questi toni non l'avevamo ancora sentita oggi io e Renzi siamo in due metà campo diverse ha messo in chiaro l'esponente azzurra che tuttavia rinnova la sua preoccupazione per la sorte dei riformisti azzurri non so cosa accadrà nei prossimi giorni ma molti dopo 25 anni non si sentono a proprio agio in Forza Italia un appello che la deputata ha rinnovato già venerdì sera durante una cena ad Arcore con Silvio Berlusconi occasione in cui è tornata ad esprimere la sua contrarietà alla sudditanza psicologica nei confronti della Lega è emersa anche in occasione dell'astenzione sul voto sulla commissione segre un errore a detta della Carfagna che mette in ombra i valori della rivoluzione liberale lanciata dal Cavariere nel 94 allora la cena è stata inutile Mara decida cosa vuole fare avrebbe commentato Berlusconi irritato dall'uscita della Carfagna Matteo Renzi gongola porte aperte a chi vorrà venire non come ospite ma come dirigente vale per Mara Carfagna e altri ma non tiriamo la giacchetta Italia Viva è l'approdo naturale per tutti è questione di tempo Matteo Salvini attacca spero che chi ha fatto il ministro con il centrodestra non vada a sinistra per amorti poltrone pronta la replica della vicepresidente della Camera no a lezioni da chi voleva Di Maio Premier intanto però ci sono le regionali e se Renzi non intende tirare nessuno per la giacchetta a farlo ci pensa il centrodestra il profilo di Mara Carfagna torna ad essere indicato per la presidenza della Campania che per accordo spetta a forza Italia e su di lei arriva il via libera di Lega e Fratelli d'Italia è molto brava dicono di lei la candidata leghista alla regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ma la Carfagna non si sbilancia anche per non dare agio a chi l'accusa di cercare poltrone prima di andare il voto in Campania dove si andrà alle urne nella primavera del 2020 ci vuole tanto troppo tempo in una fase della legislatura e la Carfagna teme la trappola di chi vorrebbe liberarsene politicamente per questo l'opzione Renzi resta più di una semplice suggestione ma anche il tema dell'odio e della intolleranza è stato al centro del dibattito politico e civile di questa settimana il caso Segre alla decisione di darle una scorta ha preoccupato anche Israele di oggi infatti la lettera che è stata scritta dal presidente alla senatrice a vita con la quale si dice inorridito per quello che è successo è impegnato da quasi due mesi a risolvere il rebus di dare un governo ad Israele ma l'occhio del presidente Ruven Rivlin guarda anche a quanto succede alle comunità ebraiche della diaspora e così oggi dopo lo Shabbat arriva la notizia della lettera scritta da Rivlin a Liliana Segre si dice inorridito di aver sentito la notizia che minacce antisemite abbiano reso necessario ricevere protezione per assicurare la sua incolumità non ci sono parole per descrivere adeguatamente il mio orrore il mio disgusto per il fatto che lei debba essere esposta a un tale comportamento criminale scrive dal suo studio Gerusalemme domani nel pomeriggio a Milano il presidio di solidarietà Milano non odia insieme per Liliana di fronte al memoriale per la Shoah quel binario 21 da dove la senatrice a vita partì verso Auschwitz il presidente Rivlin scrive che il coraggio di Liliana Segre è un modello per gli israeliani e per le comunità ebraiche di tutto il mondo e aggiunge che il caso Segre sfortunatamente è un terribile esempio della realtà degli ebrei in Europa oggi e mentre scriveva queste parole in Danimarca Randers nello Jutland occidentale la polizia svolgeva i rilievi su queste lapidi un'ottantina quelle imbrattate nel cimitero ebraico della cittadina i 6.000 ebrei che vivono nelle cittadanesi sono dal febbraio del 2015 in allarme dopo un attacco alla sinagoga di Copenhagen che provocò la morte di un uomo della sicurezza e proprio nella notte tra il 9 e 10 novembre di 81 anni fa la notte dei cristalli segnava in Germania ed Austria l'inizio della persecuzione violenta nei confronti delle comunità ebraiche con l'incendio di oltre 1.500 tra sinagoga e luoghi di preghiera la distruzione di attività commerciali e gli arresti e le violenze nessuno intervenne a fermare quello scempio nessuno venne arrestato e nel pieno della crisi catalana e anche nel segno dell'incertezza la Spagna oggi torna al voto circa sette mesi dopo l'ultima tornata elettorale oggi c'è stato l'appello delle premiere ad Interim Sanchez agli spagnoli per recarsi ai seggi e per uscire da quell'impasse politico e istituzionale in cui si trova la Spagna il paese per la quarta volta in quattro anni e la seconda in questo 2019 oggi la Spagna torna alle urne sono poco più di 37 milioni i cittadini chiamati al voto per eleggere 350 deputati e 208 senatori e tentare così di superare la situazione di stallo e ingovernabilità che da ormai un quadriennio affligge il paese gli spagnoli però si fidano sempre meno delle istituzioni e questo potrebbe indurli a disertare le urne una stensione che penalizzerebbe soprattutto la sinistra rafforziamo la democrazia col nostro voto raccomanda il leader socialista Pedro Sanchez Stamani primo tra i candidati ad aver infilato la propria scheda nell'urna di Pozzuello de Arcon a Madrid stando ai sondaggi il paese uscirà da questa tornata elettorale con un parlamento ancora più frammentato rispetto alle politiche precedenti quelle cioè del 28 aprile scorso senza un vincitore assoluto e con l'estrema destra in ascesa sul voto alleggia inoltre come uno spettro la questione catalana con le condanne di 9 indipendentisti decise il mese scorso dalla Corte Suprema spagnola una su tutte quella a 13 anni dell'ex presidente della Generalità Torriol Junqueras che potrebbe condizionarne l'esito è proprio sull'indifferenza della Catalogna che punta l'estrema destra di Vox guidata da Santiago Abascal per diventare il terzo partito spagnolo raddoppiando il numero dei deputati entrati per la prima volta ad aprile in Parlamento ma il voto di oggi è prima di tutto una sfida tra il leader socialista e premier ad interim Sanchez col 27% nelle intenzioni di voto ed il popolare Pablo Casado dato al 21% Sanchez chiede agli elettori un mandato chiaro a governare ma la sua eventuale maggioranza potrebbe non essere abbastanza solida per raggiungere questo risultato nel voto di oggi cercano di limitare i danni Ciudadanos guidato da Albert Rivera e Podemos la creatura di Pedro Iglesias formazioni entrambe in grande difficoltà negli ultimi tempi i seggi chiuderanno tutti alle 20 eccetto sulle isole Canarie la cui chiusura è prevista per le 21 adesso in Bolivia dove dopo le proteste di questi giorni il presidente Morales ha annunciato poco fa nuove elezioni presidenziali dopo il contestato voto del 20 di ottobre cede alle proteste della piazza il presidente boliviano Evo Morales si annuncia nuove elezioni lo fa a poche ore da quello che lui stesso aveva definito un golpe la presa d'atto che anche le forze di polizia ormai non lo appoggiavano più e stavano con chi in questi giorni era sceso in piazza per contestare la sua elezione la quarta dal 2006 a presidente della Bolivia Eccoli nelle immagini girate ieri poliziotti saliti sul tetto di un edificio a Santa Cruz mentre qui siamo nella capitale la paz applauditi da chi come questa donna dice sono orgogliosa delle nostre forze dell'ordine Si era votato il 20 ottobre scorso in Bolivia Morales ufficialmente aveva ottenuto il 47,7% delle preferenze dato questo contestatissimo fin da subito dalle opposizioni e da alcuni osservatori internazionali brogli irregolarità un sistema di voto elettronico utilizzato senza i necessari controlli questo dicevano i suoi avversari politici mentre la gente scendeva in piazza divisa fra chi potestava e chi difendeva Morales e così ancora ieri il presidente Indio via tweet e poi davanti alle telecamere aveva parlato esplicitamente di golpe di atti di intimidazione da parte di non meglio specificati gruppi organizzati che nella notte avevano incendiato le abitazioni dei governatori di due regioni del paese e la casa della sorella del presidente ma al golpe di Morales e alla sua richiesta di tenere una riunione urgente ed immediata per pacificare la Bolivia aveva risposto a stretto giro il leader dell'opposizione Carlos Mesa non c'è alcuna mediazione possibile non c'è nessun golpe c'è invece la richiesta di nuove elezioni una nuova consultazione da fare al più presto altrimenti sarà il caos caos che ora con l'annuncio del presidente si spera scongiurato così come in Cile dove le manifestazioni contro il governo vanno avanti ormai da 22 giorni parla dunque il presidente Pignera lo fa rilasciando un'intervista in cui promette di rimettere mano alla Costituzione con cambiamenti anche più radicali di quelli ipotizzati in un primo momento così come ammette vi sono stati abusi ed eccessi da parte delle forze di polizia ma dice tutto questo verrà indagato dalla Corte di Giustizia tutto questo ovvero 20 vittime accertate almeno 5 delle quali per mano di agenti statali 1915 feriti e oltre 10.000 persone arrestate nel momento della massima tensione con gli Stati Uniti l'Iran ha annunciato che è cominciata la costruzione di un secondo reattore nucleare che sarà alimentato con l'uranio arricchito che Teheran sta producendo in violazione dell'accordo nucleare del 2015 intanto proprio questa mattina il presidente Rouhani ha annunciato che l'Iran ha scoperto un nuovo giacimento petrolifero da circa 50 miliardi di barili nel sud del paese i nuovi pozzi farebbero aumentare di un terzo le riserve di petrolio greggio di Teheran che al momento afferma di disporre di circa 150 miliardi di barili e andiamo negli Stati Uniti dove arrivano novità importanti sul fronte dell'inchiesta Ucraina Gate 200 metri percorsi a piedi con passo normale in un vialetto non certo quello di chi vuole fuggire si mischia tra gli ospiti che escono dall'ospedale San Raffaele di Milano non ha fatto nulla per nascondersi dopo che aveva quasi ucciso un uomo nel sotterraneo del padiglione Q dell'ospedale voleva che la polizia allora questo è il servizio che vedremo più tardi riguarda di un caso di cronaca che è successo ieri a Milano ora vediamo se è pronto il servizio appunto è pronto la sua deposizione sarebbe superflua ed inutile alla luce delle sufficienti prove già raccolte parla chiaro Adam Schiff il presidente democratico della commissione intelligence della camera che sovraintende le indagini di impeachment su Donald Trump la talpa che ha dato avvio alle investigazioni non sarà chiamata a testimoniare anche perché sottolinea Schiff la sua sicurezza personale sarebbe messa in grave pericolo dalle minacce del capo della Casa Bianca per questo l'identità di chi ha dato avvio al procedimento che Trump ha bollato come traditore deve rimanere segreta e del resto rincara l'esponente democratico le stesse parole del presidente nella telefonata del 25 luglio non solo confermano ma superano le iniziali informazioni fornite una telefonata trascritta e pubblicata in settembre dalla stessa Casa Bianca in cui si sente più volte Trump chiedere al premier ucraino Zelensky di indagare sul candidato alle primarie democratiche Joe Biden in particolare in merito a presunti affari illeciti del figlio Hunter in Ucraina cade dunque nel vuoto la richiesta dei repubblicani che per respingere il rischio di un impeachment avevano sollecitato la testimonianza della cosiddetta talpa e di altre persone tra cui lo stesso figlio di Biden le telefonate con Zelensky però sono state due ammette Trump che promette di rivelare anche questa seconda trascrizione richiesta da chi indaga entro martedì prossimo lo ha detto ai giornalisti partendo dalla base era di Andrews alle porte di Washington ve la consegneremo presto perché è molto importante affermato liquidando ancora una volta le indagini della commissione parlamentare come una caccia alle streghe ai massimi livelli Hunter Biden presiedeva il board della società energetica Burisma quando il padre era vicepresidente degli Stati Uniti Trump è convinto che si tratti di una vicenda di corruzione ma senza avere per ora specifiche prove di accusa secondo fonti di stampa maltesi il governo della Valletta avrebbe negoziato un accordo segreto con la Libia per un coordinamento tra le proprie forze armate e la controversa guardia costiera libica i libici intercetterebbero i barconi dei migranti su indicazione della marina maltese prima dell'ingresso nelle acque di quel paese e li riporterebbe nei porti di partenza la ONG Alan Fon denuncia un'intesa che afferma impedisce alle persone di fuggire da una zona di guerra e viola le convenzioni internazionali per i diritti umani torniamo in Italia con la cronaca era in permesso premio l'uomo che ieri ha ferito un anziano di 79 anni nell'ospedale San Raffaele di Milano per rapinarlo 40 anni fa fu condannato all'ergastolo perché aveva ucciso tre carabinieri ad un posto di blocco agli inquirenti l'uomo non ha voluto spiegare i motivi di questo gesto 200 metri percorsi a piedi con passo normale in un vialetto non certo quello di chi vuole fuggire si mischia tra gli ospiti che escono dall'ospedale San Raffaele di Milano non ha fatto nulla per nascondersi dopo che aveva quasi ucciso un uomo nel sotterraneo del padiglione Q dell'ospedale voleva che la polizia lo trovasse Antonio Cianci ergastolano impermesso dal carcere di Bollate non ha detto una parola non ha spiegato né il motivo né la dinamica dell'aggressione ieri pomeriggio né i confronti di un signore 79enne della compagna ricoverata e che era sceso al piano più basso dove ci sono i distributori per prendere un caffè il killer lo ha avvicinato e ha chiesto i soldi la vittima glieli ha negati Cianci lo ha colpito una sola volta alla gola con un taglierino qualche millimetro e lo avrebbe potuto uccidere la vittima è in gravi condizioni ma fuori pericolo Cianci con disinvoltura ha lasciato a terra l'uomo e si è allontanato il signore ferito ha avvisato gli agenti di polizia presenti all'interno dell'ospedale in pochi minuti le volanti hanno trovato l'aggressore poco fuori dall'ospedale quando la polizia lo ha trovato era seduto su questa panchina della fermata dell'autobus che porta alla stazione di Cascina Gobba siamo a pochi metri dal San Raffaele aveva ancora i pantaloni sporchi di sangue il taglierino buttato in terra il portafoglio e il cellulare della vittima in tasca sul luogo dell'accaduto non ci sono telecamere a raccontare come sono andati i fatti è stato il signore aggredito Cianci originario di Cerignola ma residente al Pioltello Interland di Milano resta chiuso nel suo silenzio un plurio omicida prima volta all'età di soli 15 anni nel 1974 sui giornali di allora quando pensate era ancora permesso pubblicare le foto di minori con il volto visibile così come le manette il suo racconta ghiacciante così giovane ma già freddo e spietato finisce nel carcere minorile ma non basta fuori dalla galera nel 1979 uccide ancora tre carabinieri ed un posto di blocco sulla rivoltana nemmeno il tempo delle verifiche dei militari Cianci sparò senza esitazione il suo legale chiese l'infermità mentale poi la condanna all'ergastolo aveva ottenuto da settembre i primi permessi di trasferimento a Bollate dopo 40 anni passati nel penitenziario di opera apriamo la pagina sportiva a cominciare dalle campionate in particolare con il momento delicato che sta attraversando il Napoli travolto ieri dai fischi al termine della partita pareggiata al San Paolo contro il Genoa mentre oggi la Juventus per riconquistare la testa della classifica occupata dall'Inter deve battere il Milan Annervi tesi tesissimi finisce sotto un boato di fischi Napoli-Genua 1-0-0 prigioniero di una tensione interna che deflagra definitivamente al termine della settimana più pesante della storia recente del club fischi senza possibilità di redenzione che bersagliano in particolare il capitano Insigne e Mertens ripudiati da un pubblico che sa tanto amare quanto odiare fischi che sanciscono la crisi ancor più del quarto pareggio nelle ultime cinque partite ancor più della latitanza di vittorie da sei turni ancor più della classifica che vede adesso i partenopei sesti a due lunghezze da Lazio Atalanta e Cagliari oggi in campo rispettivamente contro Lecce Sampdoria e Fiorentina e a tre dalla Roma nel tardo pomeriggio impegnata a Parma la situazione sembra ormai irrimediabile con lo stesso Ancelotti non più certo del futuro e molti giocatori pronti a fare le valigie a gennaio specialmente se mesci nel mirino anche fuori dal San Paolo l'altro ieri svaliggiata la villa di Allan a Nervitesi si presentava all'impegno del sabato anche l'Inter dopo la beffa di Dortmund e gli sfoghi di Conte ma pochi tecnici in realtà sono in grado di gestire la tensione come il trainer pugliese e di trasformarla in energia positiva da convogliare sul campo sotto di un gol con occasioni sprecate e persino il Totem Andanovic in difficoltà contro il Verone il rischio di un tracollo nervoso poteva essere concreto e invece dopo il pareggio di Vesino è stato Barella proprio uno dei giocatori più stuzzicati da Conte a inventarsi la giocata vincente penso che riuscire dopo 12 partite comunque ad avere 31 punti è stato qualcosa di importante che è stato fatto l'Inter si gode così ancora una volta alla vista dall'alto in attesa di Juventus Milan di stasera una sfida una sfida in cui più del blasone pesa come raramente nella storia di questo match la macroscopica differenza di classifica di organico di mentalità i bianconeri ancora imbattuti decerti del passaggio agli ottavi di Champions non intendono certo lasciare la testa del torneo all'Inter prima dello stop di calendario per gli impegni delle nazionali e non a caso Sarri intende comunque schierare Ronaldo pur se non al 100% insieme all'ex al veleno Higuain pronto a rendere ancor più indigesta agli ex compagni la trasferta allo stadium dove il Milan non ha mai vinto e dove Pioli che è escluso che sì per motivi disciplinari dovrà evitare soprattutto battute d'arresto psicologiche lungo l'impervio sentiero della ricostruzione intanto nell'anticipo dell'ora di pranzo il Cagliari sta battendo la Fiorentina per 4 a 0 e adesso siamo alle tennis perché Yannick Sinner è il volto nuovo del tennis italiano ha 18 anni è alto a tesino e si è giudicato il torneo ATP riservato alla Next Generation ed è entrato nei primi 100 giocatori del mondo tra circa un'ora invece toccherà a Matteo Berrettini che scenderà in campo nell'ATP Finals per affrontare Djokovic Yannick Sinner è un montanaro che parla poco e gioca divinamente a tennis ieri sera ha vinto il torneo del futuro il Next Gen di Milano ma soprattutto è entrato a far parte dei migliori 100 della classifica ATP qualcosa di molto più prezioso perché Yannick ha soltanto 18 anni e due mesi ed è diventato così il più giovane tennista italiano ad esserci riuscito è nato a San Candido Alto Adige poteva e forse doveva diventare uno sciatore ma poi a 13 anni nonostante fosse una promessa dello sci ha cambiato strada ed è diventato un tennista la sua grande passione così dopo aver iniziato a giocare a Bolzano Yannick viene mandato al Piatti Tennis Center di Bordighera la scuola dei campioni dopo due anni il suo nome è già entrato nell'albo d'oro di alcuni tornei challenger quest'anno la definitiva esplosione dal punto di vista tecnico Sinner è alto quasi un metro e novanta è agile e veloce gioca d'attacco anche da fondo campo fisico spigoloso veloce e intelligente ha una visione di campo pazzesca e come si dice nel gergo ha tanta testa è un freddo non si scompone mai un calcolatore lo si capisce da come ha analizzato la vittoria in finale su De Minor numero 18 al mondo è dura fargli punto ha detto per nulla emozionato davanti alla stampa io ho pensato solo al mio gioco e a fare meno errori possibile la mia settimana è stata perfetta ho giocato forse la miglior partita di sempre un giocatore si giudica anche da questi momenti Yannick non si è scomposto per nulla Matteo Berrettini invece scende in campo oggi pomeriggio nelle ATP Finals di Londra lo attende un esordio di fuoco con Djokovic il 23enne romano è capitato nello stesso girone di Federer sono trascorsi ben 41 anni dall'ultima presenza azzurra nel torneo dei Maestri all'epoca era stato Corrado Barazzutti e prima di lui solo ad Adriano Panatta era riuscito all'impresa ma nessun azzurro ha mai vinto un match nelle Finals ora ci prova Berrettini in bocca al lupo a Berrettini adesso noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità vi aspettiamo tra poco eccoci di nuovo in diretta andiamo subito ad Hong Kong perché stanno arrivando delle immagini per quanto riguarda le proteste in corso anche oggi manifestanti hanno infranto le finestre di una stazione della metropolitana e anche di un centro commerciale tutto questo mentre era in corso la protesta per la morte di un manifestante che era avvenuta nei giorni scorsi e anche per l'arresto di sei deputati pro democrazia che poi sono stati rilasciati questa la situazione di nuove proteste dunque ad Hong Kong e per il momento è tutto vi ricordo la prossima edizione del telegiornale alle 20 grazie per averci seguito e buona giornata buona domenica a tutti voi